le uscite sul lato sinistro guardando la basilica. Per raggiungere invece le stazioni della metropolitana, le stazioni di Ottaviano e di Levanto, utilizzare le uscite guardando la basilica di San Pietro sul lato destro. Per chi deve invece tornare ai pullman in sossa al parcheggio dello stadio olimpico, utilizzare le uscite lato destro guardando la basilica di San Pietro per raggiungere la navetta che partirà da Piale Angelico. Queste notizie sono diffuse in collaborazione con l'Agenzia per la mobilità di Roma Capitano.